E conto alla rovescia a Mercogliano per la seconda edizione di Al Viale Estate. Giunta la seconda edizione, si inizia domenica 9 luglio a partire dalle ore 18. Il Viale San Modestino si prepara ad accogliere animazione, spettacoli, musica e intrattenimento per offrire ai cittadini e ai tanti visitatori la voglia di vivere Mercogliano e scoprirne la bellezza anche della semplicità di una passeggiata all'ombra dei Platani nelle domeniche di Isola Pedonale. Saranno tante belle iniziative per bambini, per i genitori anche che vorranno dedicare qualche ora a passeggiare sul nostro territorio. Saranno artisti da strada, saranno animazioni per bambini. È un programma ancora in fase di evoluzione ma al momento abbiamo lanciato un bel intrattenimento per questi primi giorni di luglio. Al Viale Estate vede la sinergia con la Proloco di Mercogliano, il Forum dei Giovani e la collaborazione dell'Associazione Perseca e l'Ebico Pazzariello che hanno allestito un calendario di attrattive. Godere della frescura serale, soprattutto sfruttare anche la funicolare che può portarli a Montevergine, può riscendere e godersi poi la serata a Mercogliano. Non mancheranno sorprese perché è un programma, come ho detto, in continua evoluzione. È solo una questione di fondi a volte ma io mi sto impegnando affinché possiamo dare anche una sorpresa ai nostri concittadini per portare poi il big tra il mese di agosto e gli inizi di settembre. Quindi non disperiamo, faremo gli sforzi massimi per dare soprattutto ai mercoglianesi e poi ai nostri turisti una buona estate.